Claudia Ruggeri incanta il popolo di Instagram con una posa accattivante. Solo in intimo buca il cuore dei fan, aspetto fisico da urla strazianti se stai cercando la perfezione da tutte le prospettive e i punti di vista. Claudia Ruggeri è la miss che fa al caso vostro? Pimpante, sensuale e stratosferica, ingredienti che bastano per una ricetta di bellezza che incanta ogni giorno, sempre più. Lo sanno anche i suoi fan che non smettono per un attimo di seguirla durante le esperienze di vita, nella speranza che possa ritornare quanto prima a comandare le operazioni nel mondo dello spettacolo e della media a setti. La miss di Avanti un altro ha conosciuto una battuta d'arresto dal punto di vista televisivo, anche se i fan attendono l'annuncio in anteprima. Per una trasmissione tutta sua, nella quale potrà tornare a mettere in risalto le caratteristiche roboanti del suo repertorio legge anche Claudia Ruggeri siede sul trono di Afrodite in reggiseno, che spettacolo conosciuta come la miss di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la super regia tecnica di Luca Laurenti. La giovanissima Claudia Ruggeri ha fatto nuovamente impazzire i fan di Instagram. Nonostante il periodo di fermo immagine sulle emittenti televisive in chiaro, Claudia ammazza l'attesa di una nuova avventura, facendo incetta di likes sui social. Ad oggi è arrivata uno milione di fan, tutti incantati da un fascino mozzafiato, condito da forme scatenate, che invitano i più forti d'animo a mettersi comodi e gustarsi lo spettacolo. Poche ore fa, Claudia ha improvvisato uno scatto che sa di prova del 9 per ciò che faceva in passato e farà nell'immediato futuro. La miss è pronta a recitare la sua parte in anteprima, ma stavolta lo fa pubblicizzando il marchio d'intimo, Calvin Klein, mostrando a tutti un paesaggio di curve a pressione, che faticano a trattenersi d'animo nel reggiseno imbottito, indossato per l'occasione. Leggi anche la bellissima showgirl dello spettacolo dimostra di avere dalla sua parte, un fisico incredibile, secondo solo ad Afrodite e in più, l'appoggio di un pubblico che a breve, si spera, tornerà ad esultare per le sue pose avventuriere. Grazie 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 Grazie